Siamo di Piacenza, io sono Monica, Massimo e Tommaso. Siamo partiti una ventina di giorni fa, dopo aver cercato su internet, abbiamo trovato Liberale Canale, ci è piaciuto moltissimo il nome, ci siamo affidati a loro e siamo partiti, abbiamo visitato le tre isole, che non sappiamo più quali sono, Gran Canale e Forteventura, ci siamo trovati benissimo su tutte e tre, ciascuna isola ha qualcosa di particolare che la caratterizza. Piacere, poi uno viene, scopre. Esatto, Forteventura è la più bella, dal punto di vista naturale, dal punto di vista del mare. La gestione anche delle vacanze è stata ben curata, i ragazzi qua sono professionali, non invasivi, se i bisogni ci sono o no, ci siamo trovati bene in tutto e per tutto, è andato tutto liscio, il tempo è sempre, ho visto una nuvola forse. Vogliamo dire due parole sulla macchina? La macchina ha una sua personalità, è una meraviglia, perché è comunque un mezzo da rispettare, c'è tutte le sue, fa sottosterzo sopra i 90 all'ora sullo sterrato, ma per il resto tutto bene. Lo consigliamo a tutti. Grazie a tutto lo staff, venite, vi divertite. Ci si diverte tantissimo. Ecco, mare, bodyboard, surf, eccetera. Tutto molto piacevole, per capito tornare a casa, ma adesso bisogna chiudere perché abbiamo l'aereo che ci aspetti. Alla prossima. Io farò fatica a salire sull'aereo. Ma ti ci porteremo lo stesso. Ciao.